I lavori sono terminati e ci hanno consentito di portare gli attuali limiti di pescaggio delle navi in ingresso a circa 7,10 metri, mentre come profondità siamo arrivati ad una media di 7,40 metri. E' il comandante del porto di Vasto a certificarne lo stato di salute, fondali a posto e furgoni e a decine imbarcati sulla nave Cargo Napoli della Grimaldi, destinazione Francia, Algeria e Turchia. Punta Penna dunque in linea con i desiderata del numero uno di Stellantis Tavares che in visita allo stabilimento di Atessa ha chiesto infrastrutture più adeguate, d'accordo gli industriali di Assovasto per i quali la strada è quella giusta. Diversi passi in avanti sono stati compiuti, specie negli ultimi anni, nel potenziamento dell'area industriale di Punta Penna e siamo fiduciosi che i benefici della zona ZES porteranno un ulteriore valore aggiunto alla strategia e alla competitività industriale del territorio del Vastese. Più indietro lo scalo di Ortona dove tuttavia è arrivato il via libera al dragaggio. Sarà un'impresa di chioggia, dice il presidente del comitato porto Davide Tucci, a iniziare i primi di marzo. A cose fatte, fondali di 9 metri e pronti anch'essi all'imbarco dei furgoni. In attesa dell'ultimo miglio ferroviario varato dalla ZES a Vasto e Ortona, Confindustria Abruzzo apprezza gli elogi del manager di Lisbona e guarda per la logistica un altro sbocco, quello sul Tirreno. La velocizzazione della Roma-Pescara che chiaramente dal nostro punto di vista, oltre i lotti già appaltati, auspichiamo che presto ci sia un cronoprogramma finale di tutto il progetto e chiaramente impatta per diversi miliardi.